Perquisizioni dei carabinieri della compagnia di Montepulciano all'interno del casolare alle mie spalle. Si tratta dell'abitazione di Giulio Sali, la 45enne, residente a Foiano ed arrestato ieri sera a Sinalunga. L'uomo è infatti accusato di aver ucciso con un colpo di pistola una 22enne di origini albanesi. Giulio Sali faceva il pastore, viveva da tempo in una casolare che si trova appunto tra Foiano e Cortona. L'omicidio si è consumato attorno alla mezzanotte in una strada del centro del paese di Sinalunga. L'assassino avrebbe ucciso con un colpo di pistola, bruciapelo il giovane sulla porta di casa. Il proiettile ha infatti raggiunto la vittima sul collo, uccidendola sul colpo. L'omicida si è poi dato alla fuga a piedi addentrandosi in un bosco. Poco dopo il 45enne è stato arrestato dai carabinieri. Attualmente si trova in ospedale, piantonato dai militari. Nella fuga si è infatti procurato una frattura ad una gamba a seguito di una rovinosa caduta in un burrone. È stata inoltre ritrovata in mezzo ai rovi la pistola utilizzata per l'omicidio. L'udienza di convalida del fermo è in programma per domani mattina. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della compagnia di Montepulciano, coordinati dal PM della procura di Siena, Nicola Marini. Non è ancora chiaro quale sia il movente dell'omicidio, alcune ipotesi investigative parlano però di questioni economiche. Si parla di un regolamento di conti, secondo voi è possibile? No, no.